Allora, signori, buongiorno. Il video di oggi è un video un po' particolare, nel senso che prendo spunto dal video di questo autore americano in cui lui, in buona sostanza, propone delle sue frasi preconfezionate per fare escalation verbale, ok? Quindi, ora ti spiego perché ho fatto questo video e passiamo un attimo al mio documento Word, così possiamo analizzare il tutto. Allora, due precisazioni. Allora, la prima tu potresti chiederti, Gio, è la seconda volta che noti, non scusami, noti, commenti quello che dice questo autore? Ma quindi, nel senso, devo prendere quello che questo autore dice come il verbo? Cioè, come mai stai commentando essenzialmente questo? Ne commenterai degli altri in futuro? Eccetera, eccetera. Allora, no, non devi prendere questo autore come il verbo? Secondo me, ovviamente. Non devi prendere nessun autore come il verbo, me compreso, in realtà, perché, ragazzi, dovete capire che, in realtà, spesso i metodi degli autori, che sicuramente sono più avanzati di quello che potete fare oggi voi, no? Però, spesso, sono figli dell'S&V dell'autore, no? Cioè, per esempio, nel recente video che ho fatto su Corona, quello che fa Corona, ora, vabbè, è spettacolo, è show, è in televisione, per carità, ma è completamente idoneo a Fabrizio Corona, no? Se lo faccio io, è completamente non idoneo a me, perché ci troviamo in due situazioni di SMV diverso, diverse. Quindi, una delle capacità di un buon coach, a parer mio, dovrebbe essere quella non solo, in realtà, di essere in grado di aiutarvi, impacchettandovi, o meglio, non impacchettandovi, impacchettando voi all'interno di un sistema preimpostato, no? Ma, in realtà, un buon coach dovrebbe, e questo sicuramente ci vuole tempo, per carità, ma se vi prende in cura, per così dire, dovrebbe ragionare con voi su creare delle strutture e del materiale che sia cucito su misura, in maniera il più sartoriale possibile, anche a fronte di quello che è il vostro SMV. Poi voi col tempo dovrete iniziare a imparare a ragionare, no? Anche perché l'SMV di una persona cambia nel tempo, e quindi voi cosa fate? State in coaching continua per la vostra vita? Beh, fatelo anche se avete i soldi, però non è una roba che io vi suggerisco, francamente, e ci avrei anche dei, voglio dire, degli interessi nel farlo, ma non voglio fare questa roba qua. La seconda cosa, ragazzi, è questa. Io vi devo fare un piccolo mea colpa. Allora, io vi sto facendo questo video in questo foglio Word, perché non sapevo com'è altro farlo. Però, se devo essere francamente onesto, queste spiegazioni in foglio Word a me ricordano molto Big Luca. Se devo essere ancora più onesto, ragazzi, ci fu un periodo, vi parlo all'incirca, se non ero, di 5 anni fa, cioè quando Big Luca entrò nel mercato, in cui, benché io devo premettere che non ho mai comprato nessun suo corso, sono anche io stato, diciamo, affascinato, diciamo, da quel modo di comunicare. Oggi è un qualcosa che io assolutamente non condivido, perché in realtà lui è bravissimo, bellissimo, intelligentissimo, mirabolante, eccetera, 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 però io preferisco fare altre cose. Preferisco non essere uno dei tanti mentecatti del panorama della seduzione in Italia. Quindi, ecco, volevo fare un attimo questa precisazione. Se qualcuno di voi ha riconosciuto la somiglianza, sì, ammetto che c'è, ma, anzi, vi chiedo, se qualcuno di voi ha delle competenze tecniche grafiche un po' migliori delle mie, se in futuro dovessi fare video di questo tipo, se avete qualcosa a suggerirmi di diverso dal foglio Word, e me lo dite, io ci provo molto volentieri, se non porta via troppo tempo. Qualora debba fare un video di questo tipo, no? Cioè, un video dove mi appoggio, diciamo, a una specie di lavagna, ecco, mettiamola così per fare una spiegazione, ok? Uno, perché mi piacerebbe di più che la roba fosse un po' più graficamente interattiva e quindi a YouTube piace di più, e due, perché proprio io, nel senso, voglio, ripeto, eh, non... Big Luca, bravissimo, poi a livello economico, proprio mi piscia in testa. Per carità, non voglio dire nulla, però non fa per me. Ecco, questo è quello che voglio dire. Allora, entriamo nel vivo del video. Perché faccio questo video? Se tu hai guardato il video di ieri, avrai visto che, in parole povere, io ho commentato questo video dei gentleman, che sono, insomma, vateli a vedere, vateli a guardare il video, se no ci allunghiamo troppo, e loro cercavano di rimorchiare una ragazza in 30 secondi. Questo mi ha portato a dire, guarda, che in realtà questa escalation è troppo veloce, è troppo veloce e scalibrata di uno di loro. E quindi, in realtà, questo mi ha portato anche a dire, per un principiante, è bene avere delle scalette, proprio per evitare questo, no? Cioè, per evitare di scalibrare ed entrare completamente, passatemi il termine, che è solo una metafora che non vuole essere violenta, non vuole, avete capito, ma entrare a gamba tesa in quella che è l'interazione, no? Dove gamba tesa spesso significa che perdete la ragazza. Quindi, in questo video cerco di spiegarvi un po' di cose interessanti, almeno interessanti dal mio punto di vista. Allora, questo video, vi faccio un ultimo disclaimer, è un po' tecnico, però tanto noi abbiamo provato a darvi i video più beginner friendly, con Gabriele, li avete pisciati in una maniera scandalosa, quindi a questo punto, visto che nel senso Vox Populi, Vox Dei, è inutile che mi snaturo e inizio a fare anche roba che mi piace più magari insegnare, ok? Quindi, nota prima di cominciare. Allora, questa è una premessa panoramica a quello che sto per dire. In seduzione abbiamo quattro tipi di, tra virgolette, escalation, o sarebbe meglio definirli quattro elementi fondanti. Ora ti spiego anche perché li ho messi in rosso e in blu. Escalation verbale, escalation fisica, comfort e trust. Ora, in una situazione ideale, che non esiste, tutti e questi quattro elementi dovrebbero crescere in maniera verticale, cioè dal basso verso l'alto. Se non capisci cosa significa, non ti preoccupare perché ora, quando ti traduco le frasi preconfezionate che quel concetto l'ha suggerito, dovrebbe esserti più chiaro. E questa crescita verticale dovrebbe esserci in tutti e quattro gli elementi. e dovrebbero essere alternati seguendo il principio di frazionamento, come lo definiamo in gergo tecnico, o anche possiamo definirlo on e off. The ghost and the flame, badass e buddha, autori diversi, l'ha chiamato in maniera diversa, ma il concetto fondante è sempre quello. Quindi questo è il motivo delle due diverse colorazioni, ok? Quelle rosse sono, in buona sostanza, spikes di attrazione e quelli blu sono filler di, definiamo, rapport. Non, ecco, per favore non fatemi entrare nella differenza se vogliamo fare i precisini, i pelisti nell'uovo di comfort, raster, rapport qui, se no facciamo notte, però. Tra l'altro non entro troppo in questi dettagli, in quanto non è lo scopo di questo video e anzi, me li riservo per materiali a pagamento più avanzati che ho intenzione di creare in futuro. Cioè, ragazzi, vi do un piccolo spoiler. Se succedono alcune cose di cui in questo momento non posso parlare, la mia intenzione è quella di creare tutta una serie di corsi per principianti, che sono i corsi che in questo momento avete a carrello, più alcuni altri per chiudere, diciamo, quel cerchio e poi creare una serie di corsi avanzati che piacciono più a me, ok? Fino ad oggi non è stato possibile per tutta una serie di motivi che non sto qui a disquisire, non è il momento nel luogo, però ecco, piccolo spoiler. Quindi, in questo video prendiamo questo autore come esempio in quanto dà degli esempi di escalation verbale progressiva, al quale lui aggiunge una nota teorica, e cioè che ogni tentativo di escalation, secondo la sua teoria, ha bisogno di una fase di push e una di pull. La... scusate, ho messo questo là, troppo grosso, che non ha senso, cioè non indica niente di quello che stavo cercando di dire. La teoria alla base è che questo mi permette di andare avanti o permette al seduttore, insomma, di andare avanti nell'interazione senza mai dare alla ragazza la certezza totale di aver comprato, cioè che lui abbia comprato, che lui sia cotto di lei, passami il termine, ok? Che la vuole a tutti i costi. Ora, in giro, nella moltitudine di teorie che voi potete trovare, ci sono essenzialmente due teorie. Uno, avanzo, tra virgolette, a forza di push and pull, a fronte del ragionamento teorico, della base teorica di questo autore, oppure due, elimino completamente il push and pull, in quanto sarebbe un cheap trick da P.U.A., un cheap trick, insomma, una roba gamey, un trucco, una roba che, se voi giustamente, nel senso siete Chris Hemsworth, in Thor, non avete bisogno, e quindi potreste semplicemente escalare a forza anche solo di pulse, cioè di tirare verso di voi la ragazza, senza bisogno di fare alcun push. e quindi questi autori della seconda teoria di conseguenza dicono il frame sottostante è se io ho bisogno di continui push and pulls o artifici, il frame sottostante è non valgo quanto te, quanto te, quanto la ragazza. se chiedi a me la verità sta nel mezzo, ma questo esula dallo scopo di questo video. Fatemi magari sapere, tra l'altro, se voi volete che entrassi nel merito di quella che è la mia opinione fra quello che è il giusto mezzo fra queste due teorie. E vi avverto però che, se me lo chiedete, cazzi vostri, nel senso che è un video ancora più complicato di quello che sto facendo, che non è complicato, però capisco come se tu cercavi i cinque consigli del manga probabilmente è un video che ti farà strappare i capelli di testa. Comunque, quindi analizziamo qui semplicemente le frasi proposte dall'autore e cerchiamo di capire perché una scaletta di una scaletta, o meglio, nell'escalation verbale in questo caso, è di grande aiuto in realtà, sì, per carità per voi, se siete i principianti, ma per la ragazza, di modo che non la creep away, come si dice in inglese, cioè non escalate troppo, non scalibrate, eccetera, eccetera. Spero di essere stato chiaro. Ogni tanto il mio italiano, come vedete, se non è scriptato, mi perdo. Passiamo alle frasi. Ripeto, il concetto di fondo è quello di fare piccoli balzi incrementali nel escalation verbale. Quindi, sembri, puntini, puntini, per lasciare una pausa, interessante. Qui, ragazzi, non entro in ogni cosa, in dove sta il push, in dove sta il pull, se no, facciamo notte, ok? Hai le espressioni facciali più sciocchine, divertenti e adorabili? Come vedi, questa non funziona particolarmente bene in italiano ed è anche un motivo per cui determinati autori non si possono completamente prendere, copia e incollare, qualsiasi cosa copia e incollare, voglio dire. O you are trouble, che in italiano, non so, potremmo tradurre come sei un gran mal di testa, sei pericolosa, non c'è veramente una traduzione, in realtà, che si possa copia e incollare nella nostra lingua. Ora che ci penso meglio, sei piuttosto carina. A dire il vero mi sta iniziando a piacere, non me lo sarei aspettato all'inizio. Smettila di guardarmi così. Farò finta che tu non l'abbia detto perché mi stavo iniziando a godere il fatto che mi piaci. non finirai nei miei pantaloni se continui a fare così. Maledizione, smettila di essere così carina. Non finirò a letto con testa notte. Scusa, puoi ripetere, ero troppo occupato nel trattarti come un oggetto per ascoltarti. In realtà trattarti come un oggetto, in inglese è objectify, che devo fare un grosso disclaimer, in realtà io non ti suggerisco di dire trattarti come un oggetto alla ragazza. Objectify ancora una volta in inglese suona meglio di quanto non suona in italiano e suona francamente un po' più morbido. Cioè non è morbidissimo, però non suona male come in italiano. Tant'è che, ti dirò di più, io una volta utilizzai contrariamente a quello che dico in che sto spiegando in questo video relativamente alle scalette, utilizzai questa frase, o meglio non questa frase, ma quasi come un opener, nel senso che una frase di approccio, non pigliaccio, insomma quello che è, nel senso che vedi questa ragazza a Londra che camminava con questo gran culo e le dissi in buona sostanza che dovevo parlarle perché o continuavo a oggettificarla da dietro oppure andavo a dirle ciao. In realtà il vibe fu estremamente buono e quindi in realtà la sua reazione fu positiva. Però diciamo che non è un approccio che sicuramente suggerisco a un principiante. Comunque sto esulando dal video, scusatemi. Saresti una così grande moglie, ragazza, tromba mica se non fossi così. X, potrei voler fare colazione con te. Potrei volerti far diventare la mia Milano-Roma. Ma non ha molto senso in italiano, nel senso che è un modo di dire principalmente americano dove in buona sostanza si allude al fatto che lei sia la tua tromba mica nel posto X. Devo chiederti qualcosa, ed è veramente importante, domani dormi sul lato destro o sinistro del letto? Sto cercando così tanto di non dirti qualcosa di noti come si può tradurre in italiano? Sarebbe un birichino forse non te lo sto tradurre, mi dispiace. Non so neanche se si può tradurre in italiano noti. In questo momento ti voglio dentro di me che ha comunque un significato, come sottolinea non ha significato una correlazione anche ironica, diciamo come sottolinea l'autore ma potrebbe essere tranquillamente anche un voglio esserti dentro. Ora, per correttezza c'è da dire, e io condivido, che questo autore dice che semplicemente tu puoi prendere dei concetti e non usare nessuna di queste frasi. E va bene così. In realtà, piccolo cavillo, quello che dico è che io trovo difficile che un principiante riesca a farsi da solo una scaletta, ok? Però, nota lato. Ma, il concetto, comunque di fondo, che spero tu possa aver apprezzato nel video, è partire piano ed escalare pian piano a mano che l'interazione progredisce. In quanto cerca di immaginare, nell'esempio di questo video, l'escalation verbale come un termometro da 1 a 10. Se la ragazza, come ti dicevo, è pronta ad un 3 ma tu le dai 8, scalibri completamente e o mandi a puttana l'interazione oppure generi una reazione di chiusura che è molto difficile da superare. Se invece, nel nostro esempio, la ragazza è pronta a 3 e tu le dai 3,5 non crei una grossa pressione e, ritirandoti un attimo indietro, step back, come si dice in gergo tecnico, e aspettando per poi riavanzare, magari avendo creato più valore, più attrazione o quello che è, non crei quel grosso momento di disagio nella ragazza data da un'escalation che lei non poteva sostenere e che o ti fa perdere un sacco di tempo in quanto a quel punto devi recuperare da un scivolone oppure ti fa perdere una ragazza che potevi evitare di perdere non scalibrando. Allora, alcune note finali. Questo video non è un endorsement né un dissing, ovviamente, a questo autore, ma semplicemente uno spunto per creare contenuto. Poi, ripeto, ragazzi, fatemi sapere se video di questo tipo vi piacciono perché potrei, come dire, analizzare le teorie di altri autori per, secondo ovviamente, quello che è il mio punto di vista che è ben lontano dall'essere il Vangelo, ovviamente, ci mancherebbe al fine di aumentare quella che è la vostra comprensione in campo seduttivo. Non entro in discorsi troppo complicati sulle lines che lui ha suggerito e come queste si vanno a inserire nello spectrum lover provider. Tra l'altro ti do una piccola chicca di cui non posso parlare qui perché sennò facciamo notte, cioè non posso parlare in questo video, ma, ebbene, sì, cioè, a seconda di dove tu ti vuoi strategicamente posizionare sullo spectrum lover provider, a quel punto ha senso utilizzare, ad esempio, delle lines completamente diverse, no? Cioè, ha senso questa cosa che ti sto dicendo che se una ragazza ha una botta e via verso una ragazza ha un fidanzato evidentemente lo stesso pitch non funzionerà? Ok. Io, parentesi, alcune le uso e le usate mentre altre no in quanto utilizzo altro materiale che funziona meglio per me. Tu dovresti arrivare ad un punto in cui tu stesso ti crei il tuo materiale e dovresti arrivare ad un punto in cui le lines sono internalizzate o puoi andare in freestyle con macroconcetti. Quindi ci sarà una base scriptata in quanto non ha senso reinventare la ruota. Se frase X funziona costantemente e molto bene in situazione Y e quindi ti manleva anche dal dover necessariamente avere velocità di pensiero perché no? Non c'è alcun motivo per reinventare la ruota ogni santa volta. perché devi essere tra virgolette unico diverso dal mio punto di vista non ha veramente assolutamente senso ma ci deve essere una parte di improv che imparerai a fare col tempo. Ora se hai notato io ho sottolineato in grassetto i dovresti perché dico dovresti? Perché ragazzi dipende dal vostro impegno no? Cioè che ci metterete in sta roba io una volta non capivo le cose che capisco oggi relativamente alla seduzione lo stesso autore che ho mostrato mi ricordo che in un suo video diceva quando anni fa insomma ora non mi ricordo esattamente a quando si riferiva e non avevo la comprensione del game che oggi è normale no? Cioè ovviamente è una scalata se voi fate un bootcamp e vi fermate cioè nel senso date i soldi in beneficenza e fate prima se invece andate avanti nel tempo costantemente eccetera eccetera ci saranno delle evoluzioni in quello che voi fate e due degli step che sicuramente si verranno a creare sono questi dovresti che non saranno più dei dovresti ma saranno dei dati di fatto per voi però questo è un processo ci vuole tempo e non mi dispiace rompere le uova nel paniere dei vostri sogni però non è il bootcamp del weekend non è il bootcamp settimanale non è il bootcamp mensile non è la coaching a distanza di un mese due mesi non lo so cioè ora esattamente cosa venga offerto sul mercato italiano o straniero il cioè l'unica cosa che effettivamente vi può diciamo portare al massimo del vostro potenziale è o un impegno costante nel tempo ma negli anni o se voi avete nel senso soldi che vi escono dal culo pagare delle coaching veramente continuativa quando dico veramente cioè parliamo comunque di percorsi di mesi ragazzi e allora sì che lì avete un'impennata veramente importante se il coach è quello giusto nei vostri risultati però non esistono i miglioramenti a sì per carità esistono i miglioramenti a breve termine cioè io per esempio uno dei miei otto studenti privati che l'hanno venuti a fare i bootcamp ebbe una se in delay il giorno stesso ma non non è quello un caso da prendere ad esempio comunque sto assolutamente divagando vi chiedo ultime due cortesi ragazzi uno se vi viene in mente qualcosa che posso usare per fare video come questi in maniera come dire esteticamente più carina vi ascolto molto volentieri mi fate una bella cortesia e cosa numero due se vi piacciono video di questo tipo fatemi sapere perché in futuro potrei produrne gli altri o mettermi a fare un canale esclusivamente dove mi metto ad esquisire queste robe eccetera eccetera quindi ci vediamo al prossimo video ciao da giù ciao